Bentornati su Radio Design, questa mattina, Paolo, benvenuto. Grazie mille, Nico, è sempre un piacere essere qua. Ormai ci conoscete, non ci presentiamo più. Basta. Questa mattina mi sveglio, un mio amico, Jonas Soggia, no, è italiano, non pensate cose strane, che vive e lavora a Bruxelles, mi manda un video scioccante. Lo apro e c'era scritto Vivi Salvini. Vedo uno sfondo blu, un blu veramente familiare, che mi ricorda cose trash. Vedo un chroma key fatto malissimo. Vedo un Matteo Salvini con in mano una cartellina, leggendo come faceva il rettore dell'Università di Perugia. Sì, questo è il livello accademico. Che salutiamo. Che salutiamo. Un altro amico, un altro amico. Un IPG. Morriconi, perché adesso stanno facendo. Siamo pieni di amici. Guardo questo video e, oltre a raggelarsi il sangue, una certa emozione dal punto di vista del marketer che c'è dentro di me, perché ho pensato è un fottuto genio. Lo è. Genio del male, genio del bene, sta a voi decidere. Diteci la vostra, ovviamente. Quindi siamo pronti anche a subire attentati di stampo terroristico. Però Matteo Salvini, dal punto di vista comunicativo, è una bomba. Cerchiamo di analizzare la cosa. Intanto il video è di una voluta semplicità e degrado da un punto di vista tecnico. Cioè, un qualsiasi pubblicitario ti direbbe che è schifo, intanto. Però non ha bene le idee chiare sul target, perché se voi pensate che esistono alcuni tipi di comunicazione dove un livello estetico più basso ottiene risultati migliori. Un compito per casa, date un'occhiata alle pubblicità dei farmaci, del mondo farmacologico e hanno una regia, una qualità di fotografia, una qualità di lavoro grafico più bassa dei prodotti dell'agroalimentare. Ma questo perché è dovuto al fatto che i tempi di codifica richiesti devono essere più bassi. Esatto. Una semplicità che va incontro alla sua strategia, cioè andare incontro al popolo. E mi fermo qui con le descrizioni. Sì, ti prego, ti prego, fermati. Al popolo. Al popolo. Senza connotazioni positive o negative. Cloaca. La teppa. Diciamo, l'elettore medio salviniano che, come sappiamo bene, ha persone delicate, che appunto hanno dei problemi a codificare messaggi più elaborati. Bellissimo, sempre, diciamo, il registro molto semplice, verbale, che ha Salvini, il tono di voce continuo che ha. Questa volta non era in felpa e questa cosa un po' mi ha fatto riflettere. Tutti erano vestiti molto bene. Che bello. Ho visto gli astanti perché, spieghiamolo un po', c'è lui che parla con la cartellina, dice seconda edizione con tutti questi pop-up molto trash, no? Terribili, ho visto prima. Terribilissimi e poi tre o quattro persone dietro che sono, diciamo, i testimonial che hanno vinto la prima edizione di Vinci Salvini. Ah, Fortunelli, Fortunelli. Infatti lui dice I Fortunati e lì anche lì si raggelava il sangue. Loro felicissimi ovviamente di essere lì e aver vinto. Non li posso piasimare. E poi appunto il discorso che si dipana sui classici temi, cioè metti un like, fai un retweet su Facebook, su Instagram, su bla bla bla, vai su vincisalvini.it e registrati. Ok? Poi mettiamolo qui da parte, facciamo come blunotte. E mettiamo da parte registrati. Lo riprenderemo. Lo riprenderemo. Metti da parte registrati. Poi un bellissimo finale con il solito, diciamo, attacco ai rosiconi. Questo video sarà attaccato ai rosiconi, ai sociologi, distruggere, diciamo, quella che è l'intelligenza, quella che ormai viene odiata. Ma anche senza l'h. Esatto. La famosa intelligenza che prima, sai, nella cultura popolare se sei un medico, ascolto. Adesso se sei un medico sei un coglione, sostanzialmente. Se sei un medico sei un coglione. E lui cavalca tutto questo. Cosa che è stata generata dai Cinque Stelle, aggiungerei, questa mistificazione. È stata convogliata dai Cinque Stelle, perché esisteva comunque nell'uomo della strada una sfiducia naturale per chi portava il potere. Pensate alle barzellette sui carabinieri. L'arbitro, i carabinieri e il giudice sono le categorie che l'italiano tendenzialmente a livello culturale di base non sopporta, perché sono gli uomini che prendono delle decisioni. Esatto. E l'uomo non li ama, fa le barzellette sui carabinieri. Ovviamente perché gli tocca un compito ingrato, mal pagato, e ti dicono cosa dovresti fare. Ecco come pensano gli italiani. Questo pensiero è stato convogliato e tradotto in un output comunicativo. Ed eccoci arrivati qua, in questo bel medioevo digitale. E poi questo discorso continua molto, sempre con un linguaggio estremamente semplice, metti un like, retweet, lui ostinatamente continua a sembrare più stupido di quanto in realtà non lo sia, perché lui è molto intelligente. Però fa fine, secondo me è studiato anche il fatto che lui abbia la cartellina, perché l'uomo della strada dice guardalo, non se ne è neanche preparato il discorso, lo sta leggendo, è umile come noi, anche noi avremmo fatto così. C'è tutta questa, diciamo, tentativo di rappresentare poi alla fine il suo target, che è la migliore della strategia. L'uomo qualunque. Ci sono i testimonial, poi ci sono i reward, la sua simpatia, questa becera simpatia che si parla di naria, quando dice vincere zero, vincerai zero euro, no? Ti prende pure per il culo, dice vinci zero euro, ma io ti sto profilando quel discorso che la mamma mi ha lasciato da parte. Ti profilo anche la mamma. Che cosa vuol dire? Perché tu a questo punto hai un bellissimo virgolettato di Fabio Lalli, che è un bomber. Questo è da leggere. È da leggere. Fabio Lalli, che conosco da tantissimo tempo, che è il founder di Equi, che è una grandissima società, una software house, che tra l'altro lui fu il primo a creare una piattaforma per poter vedere Instagram da desktop, mi ricordo. Icono Square si chiamava, non so se ti ricordi, venne creata da lui. Fabio Lalli lo stesso che paventò tempo fa l'ipotesi che Facebook ci ascolta. E anche quella è una cosa abbastanza vera. E cosa dice in merito a questo contest? Mettiamo da una parte per un momento una valutazione politica, sociologica, umana ed estetica. E guardiamo a questa cosa solo dal punto di vista tecnico. Salvini sta facendo perfettamente quello che ogni brand oggi dovrebbe fare. Cioè cosa? Produrre un contenuto. Creare engagement verso una piattaforma proprietaria. Attenzione. Acquisire dati di contatto diretto. Profilare in profondità per conoscere. Usare i dati al momento giusto, direttamente, senza intermediari. Esatto, esatto. Pesante. Pesante. Proviamo a semplificarlo per chi non è un grande esperto di marketing. Che cosa, qual è il suggerimento che viene sempre fatto alle aziende? Non regalare i soldi alle piattaforme esterne. Non regalare sempre soldi a Facebook, eccetera, eccetera. Profila i tuoi clienti. Cioè acquisisci i dati, le informazioni. Costruisci i tuoi buyer personas, quindi costruisci il tuo target. Ti dai un nome, un cognome vero, reale. Una bella mail, vera. Anche un indirizzo. Anche un indirizzo. Sì, perché poi ve lo diciamo. Anche un indirizzo. E da quel momento in poi tu puoi comunicare direttamente con i tuoi clienti finali senza dover spendere nuovamente in campagne Facebook per raggiungere sempre la stessa persona. Esattamente. E questo è quello che ha fatto lui. Esatto. Perché tu hai citato ora le campagne Facebook e casca una fagiolo perché noi siamo dei patiti di campagne Facebook. Non tutti sanno che esiste una tipologia di campagne su Facebook che non è né finalizzata alla notorietà del brand, né alla copertura, né alle interazioni, ma si chiamano generazioni di contatti. Praticamente tramite un form da compilare noi otteniamo dei contatti di qualità. persone realmente interessate al nostro prodotto che volontariamente ci forniscono numero di telefono, indirizzo, orientamento d'acquisto e altre informazioni che serviranno a noi per attivare il cliente tramite strategie di direct marketing. Quindi pensiamo alle famose newsletter, oppure alla semplice telefonata da parte di un agente di commercio. Quindi ottenere dei dati che sono di tuo reale possesso vuol dire strappare a Facebook qualcosa, tenerlo per te e farlo diventare ricchezza dell'azienda. Ma queste campagne costano dei gran bei soldi. Infatti i clienti non le vogliono mai comprare. Però Salvini cosa ha fatto? Salvini cosa ha fatto? Riesce a trasformare un contest in un contenuto virale, soprattutto grazie agli stronzi come noi che magari non ce l'abbiamo tantissimo. Non è nelle nostre grazie, sto cercando di un linguaggio pulito. E eufemismi come si può essere. Non è nelle nostre grazie. Che comunque facciamo girare questo contenuto, magari essendo anche indignati, ma in questo modo lo rendiamo virale. Viralizzandolo gli diamo un punteggio altissimo, perché l'algoritmo, come sapete tutti, l'abbiamo parlato l'altra volta, dà un punteggio altissimo tutti i contenuti che vengono condivisi. Quindi questo contenuto a livello organico, cioè gratuito, raggiunge il maggior numero di persone, tra indignati e non. Quindi lui grazie a quelli che li ama e quelli che li odia, riesce in qualche modo, spendendo il meno possibile, a far raggiungere questo contenuto a sostanzialmente chiunque del mondo. Perché lui stesso ricorda nel video che tramite i suoi canali riesce a raggiungere circa 6 milioni di persone. Visto che c'è la famosa regola dei sei livelli, se ognuno di noi ha condiviso quel video, vuol dire che tutti gli italiani l'hanno visto. Pensaci. E pensa al fatto che noi siamo qua, che lo stiamo commentando. Cioè noi in maniera fredda stiamo commentando un contenuto Facebook e molti di voi saranno indotti ad andarlo a ricercare. Vi prego non fatelo, vi prego non fatelo. Stanno facendo tutti questo. Però questa è una grandissima strategia comunicativa. Ora mettiamo da parte l'abbruttura della forma e della sostanza, parentesi chiusa. Però pensate che questa è una strategia di marketing fatta come Cristo comanda. E Luca Morisi, che è il genio dei social che sta dietro al successo di Salvini ed è il vero autore del successo di Salvini, ma questa è una mia parentesi, dirà delle cose mostruose. Perché dice delle cose mostruose? Sì, tipo come la fotina con il mitra. Ecco, la fotina col mitra. Un giorno parleremo anche di quella bellissima foto col mitra. E' molto interessante anche quella. Però Luca Morisi il suo lavoro lo sa fare e parliamo di uno con un PhD, se non sbaglio, in filosofia addirittura. Quindi lui ha un'idea di come funziona la creazione di significati nella testa delle persone. Esatto. E appunto per chiudere poi la profilazione, la profilazione che siamo andati a vedere sul sito che abbiamo citato prima, Vinci Salvini, che proprio già il nome vi viene in ripresa. Tra l'altro cosa si vince? Una chiamata telefonica di qualche minuto con lui. Questo è il reward. Non è bellissimo? E mi sa un caffè, una cosa del genere. Sì, stai un po' col capitano. Stai con il capitano, comunque. Che sballo. Quali sono i dati obbligatori che devi fornire? Nome, cognome, indirizzo, provincia, città, quindi profilazione proprio demografica, età. Profilo Facebook. Profilo Facebook loggato, quindi ci fai le audience per farci il remarketing. Cosa altro chiede? Pazzesco, chiede il numero di telefono. Ma voi non lo sapete, ma quanto è potente? E il sistema più potente per fare remarketing? Telefono. Sono i numeri di telefono. Le campagne SMS, il famoso SMS. Senza dubbio. Cioè voi, tutti quelli che si iscriveranno a quella roba, ritroveranno poi gli SMS tramite segmentazioni del target per città, eccetera. Ogni volta che c'è un evento, ciao, ci vediamo a Roma, ciao, ci vediamo a Milano. Lui sa che ha uno zoccolo duro. Ora, fatemi sostituire un attimo la parola consumatori con elettori, ma veramente la logica è la stessa. Perché Salvini considera, poi è abbastanza evidente, le strategie sono strategie votate al prodotto, solitamente lui le utilizza a piene mani. Quindi, chiamiamoli col loro nome, i consumatori più fedeli vengono identificati e verranno attivati una volta che ci saranno delle offerte, offerte che possono essere i comizi elettorali, delle elezioni, eccetera, eccetera. Pensate solo a quello che poi probabilmente fu il primo a farlo nel digitale, cioè Obama, a trasformare tutti i propri fan votanti in brand ambassador, nel senso, questo è il nostro kit per la comunicazione, cambia la tua foto, profilo, dicendo anche io voto Salvini per l'europea, anche io voto Salvini. Cioè, lui sta creando la base adesso, sta facendo proprio, sta facendo nurturing, si direbbe nel gergo, cioè sta creando, sta arricchendo il database in vista delle prossime elezioni. Senz'altro. E lui vincerà, purtroppo. Beh, se tanto mi da tanto, sì. Ma ecco, mi ricollego a quello che hai appena detto. Tu hai dato l'esempio di Obama, che è paradigmatico per quanto riguarda la comunicazione politica digitale. Ma lì si invitava comunque l'individuo a prendere parte attiva a un processo. Quindi ti riguarda, ne fai parte, e diventi autore, anzi, diciamo, come possiamo dire, autorealizzi il soggetto che riceve il messaggio e quindi diventa una persona protagonista di un processo. In questo caso, invece, si prende una persona che rifornisce un feedback alla figura politica e si ottengono tutti i suoi dati. È un po' diversa come struttura, perché in un caso c'è una call to action che chiama l'azione, in questo caso la call to action chiama a una vendita, a un acquisto. Esatto. L'ultima cosa che vorrei dire è come tramite i social media è l'unico che effettivamente ci è riuscito a farlo, è stato Salvini, trasformare il personaggio politico che decenni fa era un ruolo grigio, un ruolo da statista, a un influencer. Lui è un influencer. Tutta la sua strategia, che è basata su cosa ci mangiamo oggi, sto mangiando il panino. Cioè, trasformarlo in un essere umano qualunque, anziché il burocrate, colui che è lontano dal popolo. Invece, la sua continua interazione, il bagno di folla, i selfie, è tutto un modo per trasformare un personaggio pubblico in influencer. ed è incredibile come lui sia in grado di dettare l'agenda setting, poi qui sarebbe la puntata da spiegare cos'è l'agenda setting, però lo faremo, di dettare un pochino quali sono le informazioni, le notizie che poi sono all'ordine del giorno per sviare poi effettivamente quali sono le vere tematiche che si dovrebbero trattare in ambito politico. Senz'altro. Spread, disoccupazione, crescita zero. No, 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 noioso, noioso. La cannabis, cioè va dietro ai luoghi comuni e funziona alla grande. Tu li chiami luoghi comuni, io invece li chiamo risposte strategiche in base ai dati raccolti. Certo. Perché io condivido la mia foto con la lasagna perché stando all'algoritmo e ai dati al mio possesso, al mio elettore tipo piace la cazzo di lasagna. E al mio elettore tipo, vi faccio un esempio perché vengo dalla scrittura in mondo calcistico. Benissimo. Gattuso in difficoltà, ha mal sopportato ai tifosi del Milan. Salvini addosso a Gattuso. Salvini si riporta a Suva verso la Champions. Sitto. Sitto, non ha più parlato. Gattuso ha avuto il coraggio di rispondergli colpo su colpo ma questa cosa normalmente gli interlocutori non hanno il fegato o l'abilità di fare con il protagonista dei social. Invece Salvini, in questo caso, non è che orienta lui necessariamente l'opinione pubblica. Ne fa tesoro, prende la pancia del paese, ascolta e dopodiché parla. E fa sempre così. I dati, quando si parla di digital marketing, sono la cosa più importante che esista in input e in output. Questo tenetelo sempre presente. Adesso pensate con questo nuovo database cosa ci combina. Di tutto. Di tutto. Potrà essere ancora più preciso e ancora più efficace. Bene. Tutto ciò è molto drammatico. grazie a Goebbels che ha introdotto la comunicazione di massa nel mondo politico. Coricino. Coricino per Goebbels passando per il grande Silvio che però era abituato agli old media. Adesso siamo con i new media e questo è il principe dei new media. Quando mai un diciamo un'elite illuminata è riuscita in grado di sfruttare queste cose becere a proprio favore? Mai. È sempre il gerarca o perché è più complicato. perché è più complicato. Questa è un'era dove il sentire ha un netto predominio sul pensare. Pensare comunque richiede un impegno di un certo tipo. Le comunicazioni più alte non lo so i papi. Oh figura. Quanto l'ho di Instagram? Quanto l'ho di? Tantissimo. Però pensate un attimo io prima ho citato le pubblicità in ambiente farmacologico ok? Farmaceutico diciamo meglio così. Se pensate invece alle pubblicità dei prodotti di alto livello come i profumi quelle sono basate su un concetto che si chiama ricompensa estetica spesso esistono dei piccoli enigmi visivi da dover risolvere quindi altre aree del cervello vengono attivate perché purtroppo il profumo non è commercializzabile io devo commercializzare un'idea un processo cognitivo quelle funzionano all'opposto più sono complicate da risolvere più venderò quel profumo quindi pensate che c'è sempre una dicotomia quando si deve vendere un prodotto tra il sentire e il pensare qualcuno sceglie il sentire qualcuno sceglie il pensare nessuno dei due è sbagliato a prescindere dipende quale tipo di contenuto voglio spingere tramite questi strumenti che di per sé sono neutri quando voglio spingere l'odio per il prossimo o il disprezzo per i più deboli probabilmente non dovete fidarvi non comprate bene questo messaggio rimarrà inascoltato perché non penso che il popolo sia affezionato ai podcast no non mi stanno cercando già con dei dei forconi più che altro volente una lente raggiungiamo sempre i 20 minuti non so come sia possibile ah non lo so perché stiamo benissimo insieme siamo una coppia di fatto bene addio i packs forse chiuderanno anche quelli chiuderanno qualsiasi cosa ma non lo so comunque è stato un sogno anche questa volta iscrivetevi dateci 5 stelle mettete un like lasciate il vostro numero di telefono verrete ricontattati perfetto condividete cazzo condividete ciao ormai